Allora, oggi ho acceso la PlayStation 5 e mi ha detto che ha aggiornato il gioco Allora, chiedo scusa per l'attesa ma finalmente la macchina del tempo è completata Quando vorrai mi troverai accanto alla macchina del tempo fuori dalla Capsule Corporation Ok, questo ce l'avevo già detto nel video precedente Come state ragazzi? Come state? Allora, io volevo continuare ancora la storia Infatti l'ultima volta mi ero fermato qui Dentro, che c'era Bulma che mi aspettava Allora Bulma è qua Chissà come sta Trunks del futuro Quindi sicuramente vuole Vediamo un po' Trunks Vuole Trunks Quindi Vediamo Ok Ok Vediamo Vediamo un po' Vediamo 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 ecco di che pianta si tratta? si chiama Magidemia vediamo che ci dice ok, la posizione della Magidemia è stata segnata sulla tua mappa in quella foresta beh, top allora montagne settentrionali però intanto andiamo a ripotenziargli un po' qualcosa non ho un case qua invece ok montagne settentrionali montagne settentrionali mentre Goku alla ricerca delle sfere del drago il rado del drago si rompe decide di far visita a Bulma a West City per chiederle di ripararlo ma non ha idea di dove si trova la sua casa è la prima volta che Goku si trova da solo in un luogo così affollato quindi chiede aiuto a un poliziotto per scoprire dove abita Bulma altro piccolo spettone di Dragon Ball a cosa serve allora montagne settentrionali dove stramincia no queste si trova in una foresta quindi allora allora boom ma vediamo se uno fa numero 17 cominciamo bene allora allora ciao 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 Sì, è parecito con... E' super fai ad entrare! Pazzito! Boom! Allora... Niente male Trunks. Farina! Fai! 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 Fai... Fai! 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 no Sposato, ma come? Chiite? No Ok Sono normali che non riuscirebbero mai a trovarlo se mai altro da fare qui devo chiederti di andartene ho molto lavoro da fare bene missione completata abbiamo anche l'emblema di androide numero 17 qui sono più alti di livello faccio solo con loro se lo faccio sono più alti di livello il bordello mi fanno fanno il casino Goku e Vegeta fanno il casino allora qui vuole Goku quindi facciamo gruppo Trunks ok sono sono abitante del villaggio Jingle dohia un hehehe Sì Ok, riunione con Suno. Pesce energetico grande, riso bianco semplice, grano rosato. Questo è tutto, penso di poterlo fare, ma certo, torno subito. Ok, allora, vediamo cosa abbiamo già, vediamo, niente. Boh, il grano ce l'abbiamo, un po' di riso. Se non sbaglio c'è del pesce vicino al villaggio Lacco nell'area delle isole sudorientali. La gente dice che per trovare i pesci bisogna farsi nel punto in cui volano gli uccelli. Il resto del cibo si trova nei regozzi, credo. Allora. Ma se non ho comprato niente. Goku torna al villaggio assieme al suo nuovo amico, l'androide numero 8, che Goku chiama semplicemente Otto, dopo aver ridistruto la Muscle Tower del Red Ribbon. Il capo del villaggio accoglie con piacere Otto in casa sua, ma l'androide rifiuta gentilmente, preoccupato per la bomba all'interno del suo corpo. Goku e Suno fanno visita al dottor Flap, che vive alla periferia del villaggio, per chiedergli di muovere la bomba dal corpo di Otto. Forse questo dovrebbe vendere qualcosa. Riso bianco. Riso bianco ce l'abbiamo Pesce dove ha detto che si trova il pesce fammi vedere Villaggio l'acqua nell'area delle isole sud orientali La gente dice che per trovare i pesci bisogna toffarsi nel punto in cui vorranno gli uccelli Andiamo al villaggio l'acqua Villaggio l'acqua Boom Vediamo che succede Eh ma cazzo entrai pure Oh Gokko e Krillin iniziano ad estrarsi sicuramente con il Maestro Muterno. Ma Krillin è sopraffatto dalla difficoltà degli allenamenti. Sostenendo che il compito successivo sarebbe stato più semplice, il Maestro Muterno tira fuori due gusci di tartaruga da 20 kg ciascuno. E dice a Gokko e Krillin che dall'indomani avrebbero svolto tutti i loro allenamenti indossandoli. Impazzito il Muterno. Il Maestro Muterno. Super impazzito. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie. Boom. Wow, qua io non vedo nessun uccello. Questi sono forti. Oh, dai dai. E questi sono forti. Erano fortissimi questi. Oh, le qua. Oh. Oh, dai dai. Qui si può pescare. E dai ragazzo. Oh. 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 Oh Oh おりゃスメーキの塊だ おりゃあ あ 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 Vediamo di qua che c'è. Quella è la fame house. Non, non ci, ma perché lo forse. Non ci, ma perché lo forse. Sono venuti, che cosa è molto ospicesse molto. Che modo del giro. E invece, uno è riuscita con il giro. Uno è un po' di quattie. Non, non ci, ma perché lo forse si è riuscita con il giro. Un po' di quattie. Grazie a tutti. 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 Un movimento. Grazie a tutti. 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 Ne mancano due. Ne mancano due. Allo. 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 ecco qua che stai facendo? e tu chi sei? facciamolo facciamolo vuoi mettere la squadra genio? hehehe boniu il genio eccolo qua eccola qui sì che è quella che abbiamo già affrontato membro onorario una posa da balla che captivare è una alla volta però eh tutti e quattro insieme adesso questo cazzo facciamolo ma era uno scarcissimo vabbè 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 è durato pochissimo ma fa niente vabbè 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 menù di ramen paradisiaco, riso brillante e grone dorato boom è molto buono Sì, non è vero, non è vero. sono davvero nei pasticci, vediamo che ha combinato Sì Vediamo l'insatiabile Bu. Inizierò pescando un bel pesce succulento. Un pesce grande, sembra semplice, vediamo. Inizierò pescando un bel pesce. Vai. Inizierò pescando un bel pesce. No. Dai, dai, dai. Inizierò pescando un bel pesce. 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 Grazie a tutti. 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 Allora, carne di cervo dorata Carne di cervo dorata in periodo Ho visto qualcosa prima Eccola qua 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 Ok, ho tutto adesso quindi di corsa da Kiki Eccola qua 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 Ok Ok Bene, molto bene Eccola qua Allora Allora, allora Adesso Vediamo cosa ci è rimasto Oddio, ci è rimasto ancora un po' di roba da fare Però Terre di Codalfo Terre di Codalfo E' qui, mi sa che c'è Cell Eccolo qua Eccola qua Eccola qua Eccola qua Allora, direi che per il momento, visto che siamo arrivati a ormai quasi un'ora di live Ovviamente sulla live mi segna un po' di più ma dovrò fare un po' di tagli Per il momento ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video Se vi è piaciuto lasciate anche un bel mi piace E se per caso volete che aggiungo qualcosa ai video, basta che me lo scrivete nei commenti Come sempre vi auguro una buona serata e una buona settimana Ciao ragazzi